Qui al Salone del Libro con Silvia Vallone, appena uscita dall'incontro con una sala rossa gremita di giovani, tra l'altro di pubblico, Cuore Nero, edito da Rizzoli, la sua ultima pubblicazione. Silvia, buon salone innanzitutto, che ormai sostituisce per questi cinque giorni la parola buona giornata. Che clima stai respirando qui al Salone del Libro 2024? Beh, bellissimo. Devo dire che io sono un amante del salone da quando ero piccola e ci venivo qui in gita scolastica e per me la lettura è il cuore di ogni rivoluzione, quindi soprattutto che i giovani arrivino e leggono e abbiano le parole per rimmaginare, risognare la propria storia è importantissimo, ma dobbiamo farlo anche noi adulti. Aprire un libro significa uscire dalla propria vita, immaginare quante vite noi possiamo vivere e cambiare. E quali sono le vite che abitano Cuore Nero? Sono delle vite che hanno bisogno di molto cambiamento, appunto, perché Cuore Nero racconta l'incontro tra due solitudini. È un viaggio nell'abisso? Però con molta luce, perché quello che desideravo e che la letteratura può è appunto raccontare anche il riscatto. Noi non siamo le nostre colpe, non siamo i nostri traumi, non siamo solo questo, siamo una storia che può sempre cambiare. Qui è l'incontro tra una giovane donna che viene da 15 anni di carcere perché il male l'ha fatto e un giovane uomo che invece il male lo ha subito. Si sono incontrati in un piccolo borgo di montagna del Piemonte pensando di non avere più una chance, ma quando due persone si incontrano la vita comincia. Poco prima di iniziare questa velocissima chiacchierata, uno dei tanti giovani presenti ti ha bloccato e ti ha chiesto dei consigli di scrittura. Allora li chiedo per i giovani che possono intercettare questa intervista. Che cosa consigli per chi sta immaginando, sognando, pensando di continuare a raccontare storie come stai facendo tu? Due cose molto secche. Leggere, leggere, leggere. Se non leggi non puoi scrivere, non hai le parole, non hai l'immaginazione, non conosci personaggi che ti ispirano i tuoi. Noi conosciamo la nostra voce solo attraverso la voce degli altri. Seconda cosa, non solo incontrare i personaggi nei libri, ma incontrare le persone del mondo, uscire di casa. Andare soprattutto dove c'è più bisogno di raccontare storie. La letteratura racconta gli ultimi da sempre, la letteratura grande che rimane. Ecco, noi dobbiamo fare questo, che è anche una solidarietà sociale che serve a noi come persone e a scrivere delle belle storie. Silvia Valone, Salone del Libro, Cuore Nero, edito da Rizzoli.